L'incontro di oggi è stato un incontro particolarmente interessante, un incontro a cui non avrei mai pensato fino a qualche mese fa di poter partecipare, però chiaramente è una cosa che interessa molto, soprattutto chi fa un lavoro come il nostro, che è sostanzialmente sempre a contatto col pubblico, sempre in macchina e magari anche nelle ore notturne, quindi anche il fatto di avere la possibilità di non avere contanti e quindi di avere sempre incassi in cashless è un fatto assolutamente positivo. Questo per quanto riguarda la parte lavorativa e di categoria. Come cittadino mi rendo perfettamente conto che il fatto di spostare sempre più sul cashless le transazioni, gli spostamenti di denaro sia un grandissimo vantaggio per quanto riguarda l'evasione fiscale, per cui grande giornata, grande lavoro e grande esperienza.